ragazzi ci siamo dopo bacio per gina rosa limit edition i miei video si tingono nuovamente di rosa fin da piccoli siamo abituati a vedere queste barrette di wafer ricoperti da cioccolato al latte poi in versione limit edition cioccolato fondente ed infine cioccolato bianco ma ora kit kat diventa rosa fatto sempre con fave di cacao ruby quindi del tutto naturali e con vari processi diventa kit kat rosa lanciato dapprima in giappone come limit edition ora kit kat rosa arriva anche in europa ed è qui nelle mie mani cosa aspettiamo proviamo subito kit kat rosa fatto con fave di cacao ruby amici dopo varie riprese il cioccolato kit kat rosa è diventato un pochettino sciolto quindi apriamolo insieme questa è una confezione di kit kat rosa da 41.5 grammi ecco qui amici oh spettacolare quest'anno il rosa va tantissimo peccato che è un po sciolto che buon profumo un po sciolto amici non so se notate è leggermente sciolto cioè tutto sciolto cioè mi sta colando ovunque notate kit kat si legge c'è scritto kit kat my break sto paura di far cadere tutto non so se leggete kit kat my break ora cercherò di assaggiare naturalmente kit kat rosa naturalmente quando il cioccolato è sciolto come in questo caso il sapore non è del tutto cioè viene un pochino ricoperto cioè ma proviamolo comunque tutto sciolto ragazzi è buonissimo sta tantissimo di frutti di bosco sta calendo sento davvero tantissimo il sapore di frutti di bosco e mi piace davvero tanto guardate all'interno non so se notate è identico al kit kat normale però infatti vedo anche la cioccolata al latte però è ricoperto da questo favoloso cioccolato rosa ruby fatto con fave di ruby lo altro è buonissimo mi piace davvero tanto peccato guardate quanto è sciolto comunque sento davvero tantissimo il sapore di frutti di bosco infatti mi ricorda tanto non so uno yogurt un gelato al sapore di frutti di bosco diciamo che il sapore è misto tra frutti di bosco e cioccolato bianco si frutti di bosco e cioccolato bianco mi piace tanto 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 ok mi sono tutto pastizzato per fare questo video di kit kat rosa ma ne è valso la pena se riuscite a trovarlo anche voi aspetto le vostre recensioni i vostri commenti un bacio a tutti dal vostro Gaitano Donati qui con kit kat rosa un bacio grazie a tutti grazie a tutti